AI generativa, prompt, deepfake, midjourney, chat GPT. Hai mai sentito questi termini? Stiamo parlando di intelligenza artificiale, uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni. Sono Emanuela Madio, docente e fondatrice di case di fotografia. Nel corso di formazione fake news e intelligenza artificiale ti accompagnerò alla scoperta della AI generativa e del suo impatto sulla diffusione delle notizie false. Le possibilità offerte dei software basati sulla AI sono straordinarie ed è fondamentale conoscerle per utilizzarle con consapevolezza sia in classe che nella progettazione delle attività didattiche. Anche se le lezioni verranno registrate ti consiglio di seguire il streaming poiché sono previste diverse attività interattive ed esercizi per casa. Questo corso sarà quindi una preziosa occasione di confronto. Ci vediamo a lezione!